Ciao amici bentornati o benvenuti sul mio canale pole dance inspiration by Ludovica Nicolis Oggi vedremo il tutorial di una sfaccata tra le più ambite però noi vedremo la variazione un pochino più semplice e si tratta della baby russian split come sapete esiste la russian split noi oggi vedremo la russian split facilitata una variazione un pochino più semplice cambia poco dalla russian split originale cambia solo la posizione di un braccio, di una mano ma questa posizione ci facilita veramente tantissimo volevo anche dirvi una novità amici a breve, nel giro di qualche mese uscirà un nuovo format sul mio canale dove andremo a parlare delle migliori pole dancer italiane saranno performer, istruttrici ma anche atlete di pole sport se non di pole art o comunque varie gare spero che vi piacerà questo nuovo format perché vorrei dar modo a loro, comunque a queste atlete, a queste performer di farsi conoscere perché sono veramente brave quindi mi piacerebbe farle conoscere anche a voi io già le conosco ovviamente le ho selezionate tra molte e niente a breve saprete tutto e spero vi piacerà questo tipo di format se ancora non lo fate amici vi consiglio di seguirmi e di attivare la campanellina così sarete aggiornati su tutti i nuovi video soprattutto su questo nuovo format che presto uscirà ah, vi informo anche questo è un video informativo ok, vi informo anche che ho lasciato anche nella descrizione del video il form da compilare per le richieste di nuove figure quindi se avete qualche richiesta particolare di qualche figura particolare potete compilare questo form che trovate sotto in descrizione io comunque ne ho già alcuni che mi avete richiesto ad esempio l'inversione dall'alto quindi lo stradelvi dall'alto ma anche il merion amber ad esempio e ora che sto meglio con la spalla sicuramente riuscirò a registrare il video e anche il bird of paradise quindi abbiate pazienza che arriverà tutto pian pianino vi lascio al video e buon allenamento ciao eccoci amici al video tutorial della baby russian split ovviamente come potete immaginare questa spaccata ha vari nomi io per comodità la chiamerò baby russian split perché in genere le figure facilitate quindi la variazione più facile di una figura viene chiamata appunto baby innanzitutto per fare questa spaccata con questa entrata che vi mostrerò ora nel video abbiamo bisogno di saper fare la reiko split ovviamente non è l'unica entrata in questa spaccata si può facilmente entrare anche dal gemini ok però qui ho voluto mettervi questa variazione ma iniziamo il nostro tutorial reiko split quindi punto un piedino al palo porto entrambe le mani al palo ovviamente il braccio opposto alla gamba sarà più alto nel mio caso io faccio la spaccata con la gamba sinistra quindi il mio braccio destro sarà più alto dopodiché con il piede spingo via il palo e vado a stendere le braccia e a stendere la gamba ok tutta la spinta va verso il palo e vado ad appoggiare completamente anche il tallone da lì ruoto il busto verso il basso quindi porto la testa che sta in alto verso il basso e contemporaneamente ruoto la gamba e la avvicino al palo per andare ad agganciare il ginocchio come sapete bisogna trazionare con le braccia ok e bisogna stare attenti anche a non far scivolare il piedino sotto quindi deve essere una trazione da parte delle braccia verso il palo ma anche una spinta con il piede verso l'esterno mi avvicino con il petto ma continuo a spingere con il piedino sotto lontano aggancio il ginocchio attenzione a non agganciarvi la mano ok cercate di tenere la mano libera il corpo dovrà formare una specie di triangolo rettangolo insieme al palo ok così poi l'uscita della spaccata sarà molto più semplice arrivati a questo punto che siamo in una specie di cupido però con il busto abbassato che cosa facciamo? andiamo a staccare la mano più bassa ok e andiamo ad abbracciare la nostra gamba sotto questo abbraccio va fatto più o meno a livello del ginocchio ma potrebbe essere fatto anche a livello del polpaccio prendo il palo e nel video vedete proprio la posizione della mano andiamo a stendere la gamba che è agganciata al palo andiamo a chiuderla un pochino nella posizione pike diciamo non sarà un pike completo ma la gamba andrà ad avvicinarsi alla spalla e dopo di questo andremo ad aprire nella nostra spaccata una difficoltà che potreste trovare è quella di aprire in spaccata quindi stendere la gamba indietro portarla indietro però andare a sbattere con il piede o con il ginocchio al palo allora innanzitutto il ginocchio batteso perché se lo piegate probabilmente ci sbattete contro il palo la punta va tirata perché anche quella se non la tirate va a sbattere contro il palo e soprattutto il vostro bacino il vostro sedere deve essere lontano dal palo ok deve essere proprio in fuori infatti prima vi dicevo di mantenere questa forma di rettangolo appunto per evitare questo quindi evitare di andare a sbattere contro il palo nel momento in cui abbiamo aperto la spaccata non è finita amici cosa dobbiamo fare dobbiamo aprire il petto inarcare la schiena e spingere l'ombelico verso il palo così che le gambe riescano ad aprire di più quindi riuscite ad andare nella vostra massima apertura questa spaccata si può fare anche in spin ma vi consiglio come sempre di provarla prima in statico il ritorno da qui ovviamente il ritorno più semplice è quello riagganciare il ginocchio e salire poi con le mani fare una specie di cupido anzi tornare in cupido e poi scendere tranquillamente dal palo vi consiglio amici di fare questa spaccata anche dal basso soprattutto se lo insegnate alle vostre lieve oppure se lo provate voi non l'avete mai fatta provatela dal basso quindi mettete un piedino alla base del palo vi spostate indietro come se fosse una russian split ok ruotate il bacino andate ad agganciare sarà un pochino più difficile perché a questo punto il corpo avrà meno libertà di movimento ok il piede appoggiato a terra ha una posizione molto diversa rispetto al piede che ha appoggiato al palo e quindi farete un pochino più fatica però è giusto per capire anche la posizione delle mani la posizione delle gambe come si esce dal palo e secondo me è molto utile anche se poi la spaccata più bella vi verrà in alto ok in basso in genere anche a me non viene proprio benissimo ve la mostro qui nel video per quanto riguarda la posizione delle mani amici come sapete come vale per la russian split classica ok più avvicinate le mani al piede sotto e più la russian split sarà diciamo parallela al pavimento in questo caso però essendo una baby russian split quindi una variazione facilitata io vi consiglio di mantenere il braccio alto quindi quello sotto al ginocchio diciamo del cupido mantenerlo lì quindi non staccarlo mai dall'inizio della dell'entrata della figura il braccio sotto vi consiglio di portarlo più verso il ginocchio ok quindi abbracciare proprio il ginocchio con il braccio all'inizio poi se vi sentite più sicuri magari potete anche puntare un pochino il piede ovviamente non sarà mai a piede al massimo sarà il polpaccio anche perché è proprio la posizione che che vi blocca un pochino che non riuscite ad andare troppo giù e quindi questa spaccata comunque risulterà sempre obliqua ok non parallela pavimento sarà sempre una linea obliqua ma secondo me è molto bello anche così ed è soprattutto d'effetto e soprattutto sarà una buona propedeutica per poi arrivare a fare invece quella originale ok la russian split originale quindi se già avete fatto questa sarà molto più semplice perché è molto simile ok per oggi è tutto amici spero che questo tutorial vi piaccia questa è una delle mie spaccate preferite lo solo dico anche delle altre spaccate però le spaccate mi piacciono quindi ci sta niente vi lascio vi saluto allenatevi e ci vediamo al prossimo tutorial mi raccomando iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati un bacione ciao 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 ciao